Una delle novità più interessanti degli ultimi tempi per quanto riguarda Facebook è l'introduzione del riconoscimento facciale nelle foto in una funzione che in effetti serve a migliorare la sicurezza e la propria privacy. Come funziona? Il sistema analizza tutte le vostre foto, vi riconosce e proprio grazie a un sistema di intelligenza artificiale riuscirà ad avvertirvi nel caso in cui qualcuno debba pubblicare una vostra foto e non vi avvertisse. È un sistema che è in lento rilascio, attualmente gli utenti che ce l'hanno sono veramente pochi. In questo video vi farò vedere come capire se è possibile già attivarlo sul vostro profilo e in quel caso come attivarlo. Lo faremo con un computer perché attualmente non è ancora possibile farlo tramite gli smartphone, lo faremo da un account italiano perché noi siamo italiani e dobbiamo aspettare che Facebook si decida di rilasciare la funzione anche nel bel paese. Io sono Dario Caliendo, benvenuti in un nuovo video di TechFanPage. Per capire se questa funzione attiva nel vostro account la procedura è molto semplice. Dopo aver effettuato i login con i vostri dati tutto quello che dovrete fare sarà cliccare sulla piccola freccia posta in alto a destra nella pagina di Facebook ed entrare nelle impostazioni del social network. A questo punto dovrete cliccare nella seconda voce della colonna posta a sinistra quella che vi porterà nella sezione relativa alla modifiche di sicurezza riguardo i tag e vedrete se le prime due voci della sezione tag ormai già le conosciamo sotto queste due è stata aggiunta un'altra voce proprio la voce relativa a questa nuova funzione. Attualmente se la scritta come in questo caso è non disponibile vuol dire che Facebook ha iniziato il roll out della funzionalità ma che sul vostro profilo non sarà ancora attiva altrimenti la vedrete modificabile e potrete attivare il servizio. Qualora nel vostro profilo si potesse attivare il servizio per attivarlo dovete solo cliccare sulla voce modifica e nel pop up che comparirà scegliere proprio di attivare il servizio che analizzerà tutte le vostre foto in modo tale da riconoscerle se qualcuno dovesse ripubblicarle senza il vostro permesso. È una funzione che per funzionare utilizza un sistema di intelligenza artificiale che riconosce tutte le foto immaginate quante foto sono state pubblicate nel social network. Per quanto riguarda i tempi di rilascio purtroppo non abbiamo ancora notizie ma in effetti è una funzionalità che a breve potremmo vedere in tutti gli account anche quelli italiani. Io sono Doro Caliendo e appuntamento al prossimo video di TechFanPage.